Buongiorno, Buongiorno, buon sabato 20 maggio, ben trovati a mattino 6, la quotidiana rassegna stampa giunta all'ultimo appuntamento per questa settimana. Iniziamo subito dai quotidiani regionali, dalle prime pagine e partiamo dal centro. Rapinati da banditi con finta bomba, il titolo di apertura della prima di Pescara, in tre rompono alla caripe, legano i clienti e fuggono con l'auto della direttrice. Poi, a centro pagina, il gioco della balena, l'appello di un padre, suicidio blu attenti ai figli. E ancora, nelle cronache, Pescara, Villaggio Alcione, il parroco, lascia i fedeli, celebra messa il vescovo. L'iniziativa della Popolare di Bari, un fondo per i soci in difficoltà e ancora da Montesilvano, Stella Maris recintata, addio alla sosta. Nel taglio basso, proseguendo con le notizie dalla regione, in particolare da Pescara e provincia, Pescara via Battisti torna pedonale da giovedì alla domenica. La Movida si fermerà a Luna. Andiamo nel taglio alto, perché Teramo ricorda Pannella, un anno fa la scomparsa, l'Abruzzo ricorda il leader radicale, cerimonia al Teatro Romano. E poi, richiami dal nazionale, politica e corruzione, Rolex e favori, si dimette la sottosegretaria Vicari. Andiamo avanti con la lettura del quotidiano Il Centro. Cambiamo edizione, questa è la prima di Chieti Lanciano Vasto, che apre con il rilancio dell'Università d'Annunzio Caputi. Così, rilancio l'Ateneo, Chieti intervista il nuovo rettore, che vuole la d'Annunzio più vicina al mondo del lavoro. Andiamo a vedere anche nelle cronache da Casoli, si rovescia con il trattore, muore schiacciato. E ancora Chieti, WWF troppi, alberi tagliati e potati male. Nel taglio basso, da Vasto, due anni per il piano spiaggia, ritardi nell'aggiornamento, ancora bloccate, sette concessioni. Continuiamo sul quotidiano Il Centro, questa è la prima di Teramo. Acqua, i sindaci dicono subito i lavori. L'assemblea basta all'armi frettolosi e Ruzzo spiega sistema sicuro ma migliorabile. Questo il titolo sulla riunione di ieri mattina a Teramo per discutere delle problematiche dell'acqua del Gran Sasso. Nelle cronache, Nereto, la sentenza banca risarcisce in presa dopo averla fatta fallire. E poi, sempre da Teramo, comune, crisi ancora senza soluzioni. Nel taglio basso, il basket di A2 con la gara 3 dei play-off. Roseto si arrende a Bologna, tensioni al Palamaggetti, match sospeso. Domani si torna in campo e dunque esce sconfitta Roseto nella gara 3, partita finita 83-91. Andiamo a vedere anche la prima di L'Aquila, Avezzano Sulmona, Capogna, Mazzette in procura. Avezzano, appalti e politica, nuove rivelazioni degli interrogatori e del grande accusatore di Stefania Pezzopane. E poi, nelle cronache, all'Aquila, comune condannato deve risarcire 10 milioni. E sempre dall'Aquila, tre facoltà torneranno nel centro della città. Nel taglio basso, Avezzano, volto marsicano per Falcone. L'attore Oddi interpreta il magistrato lunedì in un docufilm. Andiamo adesso a vedere la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Balena Blu, indagini nelle scuole, il titolo con cui viene aperto il giornale. Il gioco della morte scatta l'allarme dopo il caso della ragazza pescarese di 13 anni salvata dal suicidio. Ora in cura al Salesi di Ancona. La polizia postale esamina tutte le segnalazioni. Andiamo a leggere anche un estratto dell'articolo a pagina 38. 38, era arrivata l'ultima prova, la cinquantesima, quella estrema, e stava per lanciarsi dall'ottavo piano di un palazzo la ragazza di 13 anni pescarese, vittima del Blue Whale, oppure tradotto Balena Blu, il gioco della morte che dilaga sul web. Da mercoledì sera la ragazzina, che chiameremo con un nome di fantasia Francesca, è ricoverata nel reparto di neuropsichiatria infantile dell'ospedale Salesi di Ancona. Con accanto la mamma sta affrontando una prima fase di psicoterapia decisiva per le indagini condotte dalla procura dei minori dell'Aquila, la sua confessione ai medici del pronto soccorso dopo l'allarme lanciato dalle amiche. Si è chiarito così che le lesioni che presentava ad un avambraccio erano frutto delle prime prove di autolesionismo richieste dalle menti occulte del Blue Whale. La polizia postale ha dichiarato guerra a tappeto contro il fenomeno che sta reclutando partecipanti anche tra gli adolescenti abruzzesi. Tutte le segnalazioni vengono vagliate con attenzione, anche quelle apparentemente non attendibili. La psicoterapeuta infantile Giuseppe Orfanelli mette in guardia l'adolescenza in età critica soprattutto per i caratteri più deboli e vulnerabili. E poi da Pescara dipendenti sequestrati rapina da 70 mila euro alla banca caripe di Via di Sotto a Pescara Colli. A centropagina Teramo al bando da ieri l'acqua del Gran Sasso allarme anche all'Aquila tracce di Toluene evidenziate dai test nel periodo tra il 5 e l'8 maggio. Test che poi hanno portato allo stop della captazione che tutti ricorderete. A centropagine invece da Chieti subito al lavoro il nuovo rettore della D'Annunzio Caputi così cambierò l'università. Dopo aver festeggiato ovviamente il nuovo magnifico rettore dell'università D'Annunzio si è già messo al lavoro. E poi nella seconda parte di mattino 6 andremo ad ascoltare anche l'intervista che vi abbiamo già proposto nelle edizioni del telegiornale di ieri. Andiamo a vedere di spalla ora tornando sul giornale con la borsa Walter Tosto annusa l'alta finanza l'azienda di Chieti tra le star italiane ammesse al piano elite. Nel taglio basso l'Aquila di Benedetto scuole sicure la priorità questo per quanto riguarda il programma di governo del candidato sindaco del centro-sinistra all'Aquila. Andiamo a vedere nel taglio alto le altre notizie. Teramo un anno dopo l'omaggio della città a Marco Pannella. Montesilvano rifugiato spaccia a due tredicenni e rivolta contro l'accoglienza. E poi la Serie A, Coulibalia, la Juventus, grandi manovre del Pescara. Allo studio con Paratici, una formula che consenta l'arrivo di giovani. Il procuratore di Campi esclude la pista di Orsolini e Favilli dall'Ascoli. Ora passiamo alla prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Immobilismo sull'acqua del Ruzzo è il titolo di apertura. I politici chiedono lavori per la sicurezza del traforo, per l'osservatorio. Hanno già perso tre anni di tempo. E poi su questo argomento c'è l'editoriale di Alessandro Misson, il direttore del giornale. Datecela a bere. È il titolo di apertura con cui viene proposto l'articolo e la riflessione. A centro pagina la fotonotizia è sempre su questo argomento. La crisi dei rubinetti. I sindaci bevono l'acqua del Gran Sasso. Operazione rassicurazione. È il titolo. Andiamo a vedere sotto la fotografia. Corso, così si finisce ad ottobre. Lavori a rilento per la posa della pavimentazione a centro città. Nel taglio alto la crisi al comune di Teramo. Brucchi verso la Giunta 6 con un Mister X. Di spalla la polemica. Due pesi e due misure tra Deor e Giuliesi. I conti di Roseto, Sindaco Sereno. L'ispezione non mi riguarda. E ancora Martinsicura al voto. I terreni contaminati in Parlamento. Nel taglio basso il primo anniversario della morte di Marco Pannella. La bagniera di Marco Pannella. Sventola alta al teatro romano. Questo per quanto riguarda le prime pagine regionali. Adesso apriamo lo spazio dedicato al nazionale. Dunque andiamo a vedere i titoli dei principali quotidiani italiani. Partiamo dal Corriere della Sera. L'inno dell'ISIS all'ISIS dell'aggressore. L'emergenza. Inchiesta per terrorismo. Tajani. Infrazione per i paesi che non accolgono profughi. Il giovane delle coltellate alla stazione di Milano era stato arruolato da un libico. E poi a centropagina USA scoop e sospetti. Il presidente definì un pazzo il capo dell'FBI nel Russiagate coinvolto un uomo vicino a Donald Trump. Nel taglio alto un orologio per l'aiuto della sottosegretaria. I vicari si dimette. Indagato anche Crocetta. Nuovo scandalo per quanto riguarda la politica italiana. Un copione siciliano è il titoletto dell'editoriale di Gian Antonio Stella. Quello è Tic Tac tra voto e giustizia. Riflessione appunto su questa ennesima inchiesta nella politica italiana. Andiamo sulla Repubblica. Obbligo di vaccini per iscriversi nei nidi e negli asili. Questo è il titolo di apertura. Dopo i sei anni multe pesanti per i genitori e obiettori Lorenzin si potrà valutare la revoca della potestà. E poi sospetti di jihadismo sull'aggressore. Video dell'Isis e proclami via web per l'inchiesta dopo i fatti accaduti a Milano. Il giovane appunto sotto indagine per terrorismo. Ancora Malta paradiso fiscale degli italiani dal senatore al consigliere Griglino. Questa è l'inchiesta della Repubblica. Andiamo sulla stampa ora. Renzi su Consip. Disegno eversivo contro il governo. Napoli corsa a due per guidare la procura. Intanto lo sfogo dell'ex premier. Intercettazioni se ne parlo. Dicono che voglio il bavaglio. E poi i bimbi perduti di Kathmandu tra gli orfani poveri del Nepal che vengono venduti dai loro genitori. Questa è l'inchiesta che propone la stampa con questa bella fotografia. I vaccini che diventano obbligatori negli asili. Il decreto non riguarda le elementari previste multe fino a 7500 euro. E sospensione della potestà genitoriale per chi non vaccina i propri figli. E poi la corruzione. Trapani, indagata Vicari, si dimette nell'inchiesta. Anche Crocetta, la sottosegretaria, avrebbe fatto votare una norma a taglia IVA in cambio di un Rolex. Dunque di un orologio di lusso. Andiamo sul fatto quotidiano. L'apertura è ancora su questa inchiesta. Fuori un'altra. Sottosegretaria NCD si dimette. Vicari KO, giustizia a orologeria, leggi in cambio di Rolex. L'inchiesta è denominata il signore dei traghetti. Indagato oppure Crocetta per una vacanza a sbafo. Dunque indagini che riguardano anche il governatore della regione Sicilia. A centro pagina Woodcock la stampa lo tiene fermo mentre il PD lo bastona. Caccia all'uomo e a Firenze va in scena una Leopolda garantista in stile caimano. Andiamo sul messaggero. Senza vaccini via la patria potestà. Dunque questa notizia che riguarda la sanità in primo piano. 12 profilassi diventano obbligatorie da 0 a 6 anni per iscriversi ad asili e materne. Multe di 7500 euro anche per chi manda i figli a scuola fino a 16 anni senza immunizzazione. Poi la corruzione. Sottosegretario Lascia ha indagato il governatore Crocetta. Trapani, tempesta giudiziaria Rolex alla Vicari in cambio di favori. A centro pagina dal calvario traffico a termini in tilt per ore, strade e treni. L'inferno Roma, un giorno di ordinaria paralisi dopo il blackout che si è verificato alla stazione Termini per un incendio che inizialmente però ha destato molta preoccupazione perché si era ventilata anche l'ipotesi di un attentato. Il tempo, adesso la vita è bella con questo disegno stilizzato oggi nella capitale, la grande marcia per fermare l'attacco di politica in media ai valori della famiglia. Andiamo avanti, il dubbio parla Gennaro Migliore, chi spia gli avvocati abbatte la Costituzione, i colloqui dei legali non vanno neppure trascritti, questo per quanto riguarda le polemiche sulle intercettazioni. E poi sistema Trapani nel mirino dei PM, anche la sottosegretaria Vicari, bufera in Sicilia, indagato anche Crocetta. Andiamo sul giornale adesso, oggi il corteo pro migranti, la sinistra marcia e il paese marcisce, terrorismo islamico e degrado alla stazione centrale, ma i buonisti fingono di non vedere e sfilano a Milano per chiedere altri profughi. E poi l'inchiesta in Sicilia, si dimette la Vicari, mazzetta e Rolex, terremoto in Sicilia, il governo perde un altro pezzo. Libero ora, manifestazione per avere più immigrati, sfilano per i delinquenti, dunque apertura praticamente sulla stessa notizia per Libero rispetto al giornale. Capeggiati dal sindaco Sala, politici intellettuali e cabarettisti oggi marciano a Milano con gli slogan senza muri e nessuno è illegale. Scafisti, ONG inquisite e chi specula sulla disperazione di chi sbarca ringrazia il corteo. Intanto l'italo-tunisino che ha coltellato i militari in stazione sotto inchiesta per terrorismo. E poi a centropagina, rendeteci immuni dalla ministra Fedeli, non è dottoressa ma decide lei sui vaccini dei nostri figli. Dunque critica la posizione di Libero sul decreto del governo. La verità ora, restiamo nel campo dei quotidiani di centrodestra. Apidi in piazza con gli immigrati un'altra coltellata ai poliziotti. L'aggressore della stazione centrale è indagato per terrorismo ma la sinistra non ferma la manifestazione di Milano che protesta anche contro i controlli delle forze dell'ordine. E poi corruzione, sottosegretario indagato, la Vicari e i trasporti sarebbe stata comprata con un Rolex, sotto accusa anche Crocetta. Andiamo sul manifesto, segno opposto rispetto ai titoli precedenti. Il mare a Milano, in questa volta titolo in positivo, più di mille associazioni e organizzazioni laiche e cattoliche sfilano oggi per chiedere maggiore accoglienza per i migranti e la cancellazione del decreto Minniti. Il sindaco Sala contro la Lega basta strumentalizzazioni. Andiamo su avvenire, piccoli e vaccinati. L'obbligo per l'iscrizione all'asilo da 0 a 16 anni, previste multe e sospensioni della patria potestà. Dunque questo è il sunto del decreto varato dal governo. E poi aggressione in stazione tra disagio e terrorismo. Andiamo sul mattino di Napoli. 12 vaccini obbligatori. Il governo vara il decreto nel piano Rosolia, Orecchioni, Morbillo e Meningite. Verifiche fino ai 16 anni, senza profilassi, niente nidi e materne per i genitori, multe e stop alla patria potestà. Poi le interviste del mattino. Intercettazioni come tortura, Cassese, giuste le critiche di Napolitano. Si inserisce questa intervista nell'alveo delle polemiche per quanto riguarda le intercettazioni e la pubblicazione delle stesse. Blackout a termini, caos treni per Napoli, il blocco della circolazione è durato due ore, disagi sulla direttrice Nord-Sud per quanto riguarda le ferrovie. E poi l'inchiesta di Trapani, Rolex per abbassare l'IVA, Vicari indagata e si dimette. Andiamo sul secolo XIX. Solo bimbi vaccinati, nasi di nido e materne, iscritto chi è in regola, obbligo e multe anche alle elementari. Pubblico impiego intanto stretta sul rendimento fuori con tre bocciature. Questo per quanto riguarda i decreti attuativi della riforma Madia sul pubblico impiego. La parte diciamo mancante rispetto alla riforma già in essere. E poi politica e giustizia, lo sfogo di Renzi sul caso Consip, piano eversivo per colpire il mio governo. A centropagina, un'estate da cani in spiaggia. Notizia che riguarda la Liguria, essendo il secolo un quotidiano ligure. Savona verso la derega al divieto, ma in tutta la Liguria si moltiplicano gli spazi. I spazi che ci sono anche nella nostra regione. Andiamo sulla gazzetta del Mezzogiorno. Scuola, vaccini obbligatori, corruzione a Trapani. Ai domiciliari armatore è un candidato sindaco, indagato il governatore Crocetta. La sottosegretaria si rimette, Rolex, per ringraziarla. E poi terrorismo. L'Isis sopravviverà arrestato a Carapelle. È un tunisino. A Padova è espulso il fratello, l'aggressore di Milano, figlio di una foggiana. Dunque così il quotidiano pugliese. Andiamo sul gazzettino, quotidiano del nord-est. Sanità, scuola, obbligatori 12 vaccini. Chi non rispetta la legge rischia la patria potestà. Zaia dice provvedimento confuso e fumoso. Dunque critico il governatore della regione Veneto. Decreto del governo. Niente asilo per chi non è in regola. Da 6 a 16 anni multe fino a 7500 euro per i genitori obiettori. E poi terrorismo. Il fratello arrestato a Bari. I cani cristiani vanno sgozzati. Espulso un tunisino preso a Padova. E poi l'inchiesta si inizia in Sicilia. Un Rolex per i favori agli armatori. Si rimette la sottosegretaria Vicari. Buffera corruzione. Indagato anche Crocetta. Adesso andiamo a vedere i quotidiani nazionali sportivi. E dunque partiamo dalla Gazzetta dello Sport. A centropagina la fotografia di Icardi. Inter anno zero. Ci risiamo. Caos nerazzurro. Il DS ausilio attacca la squadra. Tohir numero uno per soldi. Con Sabatini parte la missione futuro. Per la panchina spunta l'ipotesi. Allegri. Intanto weekend da brivido. Lo scudetto l'Europa e la salvezza. 90 minuti di passione per quanto riguarda la Serie A. Alle ore 18.00 Chievo-Roma. Il seco insegue il record. Altro dribbling di Totti. Alle 20.45 Napoli-Fiorentina. Insigne ai Bernardeschi con vista sulla nazionale. Domani alle 15.00 Juve-Crotone. Il settennato di Agnelli. Noi nati per vincere Juventus. A cui basta un punto per la matematica e certezza dello scudetto. E poi tennis formato famiglia. Pennette e Fognini con il fiocco più azzurro. Benvenuto Federico. E per quanto riguarda il Giro d'Italia. Giro 100. Gaviria si rifà in 4.00. E oggi ad Europa. Sulla salita di Pantani decolla la sfida rosa. Andiamo sul Corriere dello Sport. Iguain sono nato per vincere. Questa è l'intervista esclusiva di Walter Veltroni. Al bomber della Juventus. Voglio tutto. Scudetto e Champions. Poi in Russia ai mondiali. Sono legato a Sarri e ringrazio i Napoli per i tre anni trascorsi. Sì, sia la Juve è una scelta giusta. Desideravo un grande traguardo. Con Allegri sono cresciuto tatticamente. Il nuovo Pipita è Lucas Alario. E poi sette anni di Andrea Agnelli. Bisogna crescere ancora, dice il patron della Juventus. Ancora giallorossi contro il Chievo per difendere il secondo posto di spalla. Champions la Roma all'attacco. Il Napoli sogna. Vogliamo il sorpasso. Questo per la lotta al secondo posto. Andiamo a vedere questa notizia di MotoGP. Alla scoperta di un campione. Ecco il ciclone Zarco. Un parà che sfida vale. Andiamo su tutto sport. Colpi in arrivo per nuovi trionfi. Juve Schick c'è l'accordo intesa con l'attaccante vicina. Quella con la Sampdoria che chiede di trattenerlo per un'altra stagione. Si ragiona sulle contropartite. Inter sorpassata. E poi botta e risposta. Agnelli a Sarri sui fatturati. Noi bravi a farli crescere. Il tecnico del Napoli. Normale che vinca chi incassa di più. La replica del presidente bianconero. C'è chi ci accusa. E si deve ricordare dove eravamo nel 2010. E poi l'Inter. Mancini. Inter magari torno. Candidatura sorpresa per i nerazzurri in cerca di un tecnico. Intanto Conte non chiude. Dopo la FA Cup parlerò con il Chelsea. Di spalla il Torino. Perché Mija deve restare. Senso d'appartenenza. Orgoglio grinta. Goli. Il progetto Mijailovic che guarda l'Europa. Va difeso e sostenuto. Granata su Perotti. E poi nel taglio basso. Speciale donna. Intervista alla ex calciatrice. Panico. Sono il CT del futuro. E poi Giro d'Italia. Il colombiano re delle volate. Gaviria che poker. E adesso si sale. Adesso andiamo con un paio di minuti a vedere anche i quotidiani online. Allora iniziamo dal Corriere.it. Il portale del Corriere della Sera. Russia Gate stampa inglese. FBI vuole ascoltare Jared Kushner. Genero di Trump. E poi scuola e prevenzione. Vaccini. Si ha il decreto sull'obbligo a scuola. L'immunologo giusto. Segnale forte. Ancora corruzione. Vicari si dimette l'orologio. Un regalo. Crocetta è indagato. Questo per quanto riguarda l'inchiesta di Trapani. Che ha visto le dimissioni del sottosegretario alle infrastrutture e trasporti. Accusata di aver fatto favore a un armatore. In cambio in un orologio prezioso. Venerdì sera ha rinunciato all'incarico. Andiamo a vedere anche Repubblica.it. Il portale del quotidiano La Repubblica. Russia Gate stampa gli investigatori. L'FBI vogliono ascoltare Kuzner. Genero di Trump. Sarebbe l'alto esponente della Casa Bianca coinvolto nell'inchiesta. Ai russi il presidente avrebbe rivelato. Koimei era pazzo. L'ex capo del Federal Bureau. Testimonierà in Senato alla fine di maggio. In Medio Oriente. L'Iran ha scelto il presidente Rouhani. Riformista ha battuto il conservatore Raisi. Affluenza al 70%. Voto prolungato di ore. Questa notizia è molto importante per la stabilità del Medio Oriente. per il percorso avviato dall'Iran. Salute. Vaccini. Approvato decreto sull'obbligo a scuola. Asilo vietato. E da sei anni multe. Fino a 7.500 euro. Prevista la sospensione della potestà genitoriale. La Lorenzi ne dice. 12 profilassi obbligatori. Gentiloni annuncia appunto le sanzioni. Politica e scandali. Sottosegretaria Vicari si dimette. Indagata per corruzione a Trapani insieme a Crocetta. E poi la pubblica amministrazione statale. Scatterà il licenziamento se bocciati per tre anni di fila. Questo per quanto riguarda la riforma del pubblico impiego. E poi le scuole. Fondi alle scuole private. La svolta del Movimento 5 Stelle. Sul blog Il Dietrofront Grillino. Sia i finanziamenti per nidi e materne. Andiamo ai portali regionali adesso. Andiamo a vedere prima da noi.it. Arap. Montagna di debiti. Ancora consulenze esterne. Senza giustificazione. Revisori dei conti. Bacchettano il commissario. Gian Piero Leonbroni. E poi emergenza Gran Sasso. Per il governo è tutto normale. Dopo l'interrogazione di Fabrizio Di Stefano e Di Sell. Nessuna presa di posizione dello Stato centrale. Misteri e veleni. Acqua del Gran Sasso. Ancora tracce di veleni di provenienza ignota. Toluene e trimetilbenzene. Ma molte sostanze non vengono cercate. E ancora sequestro di un allevamento. di Cihuahua Montesilvano. Allevatori e veterinari denunciati. Andiamo su Abruzzo Web quotidiano. Elezioni all'Aquila. Le liste di biondi depredate dal centro-sinistra. È la notizia che riguarda le elezioni amministrative nel capoluogo. Meno appetitose di quelle del centro-sinistra. Piene di transfughi. Forse anche a dimostrazione di dove soffia il vento. Sono comunque ricche di curiosità le sette liste a sostegno del candidato sindaco dell'Aquila per il centro-destra. Andiamo a vedere anche ABR24 News. Che apre col basket. Passo falso del Roseto. Chieti ora rischia davvero per quanto riguarda la 2. e poi il Futsal, Vola e il Pescara, Acqua e Sapone, K.O. E ancora. Casoli, agricoltore muore sbalzato dal trattore. E la contabilità regionale nel caos. Il governo impugna la regge sul rendiconto generale del 2013. Ultima notizia che andiamo ad osservare. Santa Croce e Regione. Lo scontro si sposta sulla sorgente Fiugino. Adesso ci dobbiamo fermare per il break pubblicitario. Ma prima andiamo a vedere le previsioni del tempo con Meteo 6. Poi torneremo con la seconda parte della nostra rassegna stampa. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo alle notizie dalla nostra Regione. Ripartiamo dalle pagine interne del quotidiano in il centro. In primo piano ritroviamo la notizia che abbiamo visto anche con grande risalto sulla prima pagina del quotidiano. Suicidio blu, mio figlio salvo per miracolo. Due quindicenni pescaresi rischiano la vita per il folle gioco online del Blue Whale. Un padre dice ho sventato la tragedia grazie ad un insegnante. Una follia nata in Russia, leggiamo dal taglio basso, ha ucciso già 157 ragazzi dai tagli sulle mani alla data della propria morte. Un curatore ordina le 50 prove da superare. Vedete la foto dell'ideatore di questo gioco. Uno studente di psicologia in Russia che ha inventato questo tragico gioco che sta facendo davvero tantissime vittime in tutto il mondo. L'esperta è un'età vulnerabile, sono tutti a rischio. La psicologa dice va alimentato il pensiero critico dei ragazzi per combattere questo tipo di problematiche. e poi il dirigente della Polizia Postale dice siamo solo all'inizio, boom di denunce in pochi giorni ma sono tre i casi reali, comunque Polizia Postale che vaglia tutte le denunce che arrivano ai propri uffici. Adesso passiamo al messaggero. Andiamo a vedere anche come titola il messaggero su questa notizia. e allora possiamo aprire la pagina Abruzzo. Il gioco della morte, Balena Blur, la ragazzina salvata dalle amiche indagini nelle scuole. La tredicenne pescarese in terapia psicologica ad Ancona. Le prime ammissioni dopo la scoperta delle ferite ad un braccio. Al setaccio le chat frequentate dall'adolescente per risalire alla descatore e fioccano le segnalazioni. Orfanelli dice età critica per i soggetti deboli, dunque studiosi, psicologi tutti concordi ma l'adolescenza si sa è un'età molto problematico, un'età di passaggio che pone i genitori davanti a problemi importanti nella gestione anche psicologica dei propri figli. Il fenomeno, i 50 passi verso il baratro, il gioco come abbiamo detto si chiama Blue Whale, in italiano Balena Blu, è nato in Russia e si sta diffondendo a macchia d'olio attraverso le principali piattaforme social. I link che si annidano soprattutto nelle chat delle comunità di adolescenti rimandano ad un sito dietro il cui schermo opera la figura del curatore che istiga i partecipanti ad affrontare una serie di 50 prove successive di autolesionismo fino all'ultimo gradino che prevede il passo estremo. Saltate da un edificio alto, prime regole del gioco della morte sono incidetevi sulla mano con il rasoio F57 e inviate una foto al curatore. alzatevi alle 4.20 del mattino e guardate video psichedelici e dell'orrore che il curatore vi invia direttamente, tagliatevi il braccio con un rasoio lungo le vene e via di questo passo. Ovviamente si invita a fare grande attenzione da parte dei genitori. Andiamo avanti con la lettura dei giornali e passiamo, anzi ritorniamo al quotidiano Il Centro per andare a vedere le altre notizie che pone in primo piano il quotidiano abruzzese. Andiamo ad aprire la pagina che riguarda la Santa Croce, diffida la regione nostra tra l'acqua della Fiugina. Canistro, la società del gruppo Colella, vuole sfruttare la sorgente e imbottigliare in Molise. C'è la concessione, dunque prosegue la battaglia tra Regione e Acqua Santa Croce. Domani le Oasi WWF per una giornata sulle tracce del lupo e poi la Regione, comitato via domande entro il 31 maggio, il Consiglio dei Ministri, il Governo impugna la legge regionale sul rendiconto 2013. Andiamo ancora avanti con il quotidiano Il Centro e adesso andiamo a vedere la pagina di Pescara. Assalto alla Caripe, possiamo vedere anche delle immagini della banca che ieri è stata assaltata, legati e sequestrati in banca da tre uomini con una finta bomba, la fuga su via di sotto con l'auto della direttrice, bottino 70 mila euro. Questo per quanto riguarda la notizia di cronaca che andiamo a vedere anche sul quotidiano Il Messaggero. dipendenti sequestrati, banca rapinata, colpo da 70 mila euro alla filiale Caripe di via di sotto, abbiamo dell'esplosivo, così hanno minacciato la direttrice, in quattro sono stati rinchiusi in una stanza, poi su una vetrina è stato affisso il cartello problemi tecnici e caccia ai tre banditi. Il piano d'azione è scattato all'ora dell'apertura, poi hanno ripulito la cassaforte a tempo e il bancomat. Dunque un piano come si può evincere dalle prime informazioni studiato nei minimi dettagli. Torniamo sul quotidiano Il Centro, andiamo a vedere le altre notizie. Via Battisti torna pedonale, la movida sarà fino a luna, strada chiusa dal giovedì alla domenica da via Diamicis a via Quarto dei Mille, il provvedimento da oggi al 2 ottobre, niente auto a partire dalle 17.30. Invece saltiamo sul Messaggero per andare a vedere la notizia che apre la pagina di Pescara. Maxi isole e fanfare per i bersaglieri scattano le prime limitazioni al traffico in centro, domani strade chiuse in mezza città per la sfilata di Finera 1. Dallo stadio a Piazza Salotto un lungo perimetro interdetto alle auto, navetta sull'asse Viale d'Annunzio via De Gasperi. La manifestazione è entrata nel vivo con l'arrivo del medagliere ieri in comune e l'accoglienza da parte del sindaco Marco Alessandrini. Continuiamo con la lettura delle pagine di Pescara e andiamo a vedere quest'altra notizia. Prete lascia la parrocchia, la messa la dice il Vescovo Villaggio Alcione, sconcerto tra i fedeli della Chiesa del Santissimo Crocifisso. A sorpresa si presenta il Vescovo Valentinetti. A Dondario serve una pausa di riflessione. Ancora avanti con la lettura del giornale e andiamo a vedere un'altra notizia. Educazione stradale a scuola, 170 bimbi prendono il patentino. In viaggio Berti prova finale sotto gli occhi dei vigili urbani per insegnare i comportamenti corretti da tenere in strada. Ancora sul quotidiano il centro. Andiamo ad aprire la pagina di Spoltore. Di Lorito contro Febo, sfida a distanza. Spoltore al voto e il sindaco uscente punta su riduzione di traffico e smog. La sfidante vuole una nuova classe dirigente. Dunque ci sarà questo voto amministrativo che ripropone. La sfida è già andata in onda nella precedente tornata quando a spuntarla fu proprio Luciano Di Lorito. Andiamo ancora avanti. La pagina di Montesilvano. Stagione balneare alle porte. Stella Maris recintata. Turisti senza parcheggio. La pista ciclabile ha coperto i posti auto sul lato mare. Gli stalli promessi sul versante monti non sono stati realizzati. Ora è vietata l'area della Colonia. E poi arresto nel ghetto di Via Ariosto. Ospite del centro di accoglienza. Vendeva marijuana a due ragazzi. È stato arrestato. Nel taglio basso cure sospese a una giovane disabile. La regione non dispone i posti per le terapie. Appello di carrozzine determinate con Claudio Ferrante. Andiamo nelle altre notizie dall'area metropolitana. Studenti senza classi. D'Alfonso dia subito 100 mila euro all'agrario. C'è pagati appello di assessori, genitori, docenti e dirigenti della scuola chiusa. La richiesta al governatore oggi all'inaugurazione del distretto sanitario. Poi da Francavilla, cimitero attesa per i nuovi loculi. L'ala in costruzione non è pronta. Il direttore dei lavori, i primi 350, entro quattro mesi. Andiamo ancora avanti. Sulla pagina di Penne Popoli e dell'Alta Val Pescara. 1.000 studenti genietti per scienza under 18 e poi tappa a tocco per i camminatori del Volto Santo. L'ospedale di Penne, le ferie e pretesto per tagliare la will sull'accoppiamento dei reparti. Stesso personale del 2016. E ancora protezione civile per 10 paesi. L'assemblea dei sindaci mette insieme risorse e crea il gruppo unico con Rosciano, ente capofila per la Val Pescara. Andiamo a vedere le notizie dalle altre province. E allora andiamo ad aprire la pagina di Chieti. Il rettore Caputi già al lavoro, voglio rinnovare l'Ateneo. Siamo sul messaggero. Il direttore di Odonto Iatria ha vinto con 349 voti decisivi gli amministrativi. Festa in un ristorante con i colleghi. Maggiore apertura verso gli studenti. Il primo impegno di Caputi, il professore ha battuto stupia al terzo turno di votazione con l'appoggio di tre candidati. Andiamo a vedere l'intervista realizzata da Paolo Renzetti nel prossimo servizio che parla appunto dell'elezione del nuovo rettore. Inizia ufficialmente oggi l'era Sergio Caputi all'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara. Al terzo scrutinio il direttore del Dipartimento di Scienze Mediche è riuscito a spuntarla sul collega del Dipartimento di Scienze Psicologiche, Liborio Stupia. Rinnovamento e riorganizzazione, queste le priorità del neo rettore. Il mio progetto da attuare è quello di espandere l'università un pochino di più oltre i confini regionali, quindi far diventare l'università un volano del nostro territorio per un'espansione su tutto il territorio nazionale. Per mettere in atto questo dovremo sicuramente rendere la macchina più snella, modificando i regolamenti troppo complicati e facendo una parziale rimodulazione dell'apparato amministrativo. Il suo sarà un programma in un certo senso che andrà in discontinuità con quello della passata gestione? Ma io non parlerei di discontinuità o continuità, è un programma nuovo per cui io al passato prendo quello che c'è di buono da prendere, abbiamo delle strutture meravigliose, un corpo docenti di tutto rispetto, un personale fantastico che magari andrà un pochino ampliato, però fondamentalmente la base di partenza è molto buona e quindi credo nella riuscita del nostro progetto. L'università d'annunzio arriva da un anno però difficile, di veleni, di polemiche? Ma l'università d'annunzio arriva da cinque anni di problemi dovuti in parte anche alla nuova legge Gelmini che ci ha trovato un pochino impreparati, quindi i dipartimenti non erano pronti a reagire a questa novità, l'abolizione delle facoltà ha determinato qualche altro problema, per cui c'è stato un momento di disorientamento che adesso io cercherò di superare e portare avanti con forza un progetto quindi di rinnovamento comunque di quello che è la nostra università. Professor Caputi, nuovo rettore, tra l'altro studente dell'adannunzio che si è laureato all'adannunzio. Sì, sì, io sono nato a Chieti, vivo a Pescara e ho studiato qui all'adannunzio, ho fatto il mio corso di laurea in medicina e chirurgia, quindi credo di essere forse il primo rettore dell'adannunzio che è un ex studente dell'adannunzio. La pagina di Lancianova Stortona, sempre sul messaggero, ospedali e servizi, sale la protesta, Feder Consumatori lancia l'allarme durante l'incontro in municipio, basta disagi potenziare i distretti di base, l'assessore Polucci precisa, avanti con i presidi sul territorio, cresciuta l'assistenza verso gli anziani, faremo nuovi nosocomi, chiusura o riconversione delle strutture di Gissi, Atessa, Casoli e Guardia Grele, questo si discute. Andiamo adesso alla pagina dell'Aquila, sempre sul quotidiano, il messaggero, odore e sapori cattivi nell'acqua, tracce di Toluene, risolto il giallo, rinvenute tracce della sostanza dei prelievi della GSA, concentrazione al di sotto del pericolo, potabilità mai a rischio, ma è polemica. Melaragni, siamo quasi certi che dipenda dai lavori effettuati sull'autostrada, inviate due diffide. Verso le elezioni, Silveri si presenta alla città, da noi scelta coraggiosa, Biondi sottoscrive a Montecitorio il patto per le città, la sicurezza è una priorità per l'Aquila. E poi Abruzzo Civico, ecco la lista, ci sono anche Moroni e Ianni, ieri la presentazione della lista di Abruzzo Civico a sostegno del candidato Di Benedetto, e proprio di Di Benedetto si parla nella pagina successiva, la priorità è la sicurezza delle scuole, dice il candidato del centrosinistra, il parco del castello come luogo simbolo, c'è l'acqua, da qui è ricominciata la vita, non mi dimetto dalla GSA perché dovrei ai sottoservizi solo una grande opportunità. Tutto è migliorabile, ma la gestione delle emergenze è stata incommiabile, ora alcune cose sono imbrigliate, alcuni dei temi posti da Di Benedetto. Andiamo sulla pagina di Avezzano Sulmona, Market della Droga in un appartamento, blitz dei carabinieri in piena zona commerciale che scoprono 10 kg di hashish e quasi un chilo di cocaina purissima. Indagini in congiunte con l'aiuto di unità cinofile hanno portato al fermo di tre persone, sono tutti marocchini. Andiamo adesso ad aprire la pagina di Teramo, ma lo facciamo dal quotidiano La Città. Dunque andiamo nelle pagine interne, parliamo della crisi dei rubinetti. I sindaci teramani dettano le loro richieste, interventi celeri per la messa in sicurezza dell'acqua del Gran Sasso, trasparenza e più partecipazione. Giovanni Lolli, il vicepresidente della regione, dice che nessun rischio per il rinnovo della concessione a Ruzzo, ma deve essere portata avanti la messa in sicurezza dell'acquifero entro la fine del prossimo anno. Intanto ricompaiono tracce di trimetilbenzene, la denuncia del forum delle acque provengono dallo scarico dei laboratori nazionali del Gran Sasso. Ci sono anche le dichiarazioni di Forlini, l'acqua è stata sempre potabile e siamo arrivati al paradosso che pur dicendo la verità non veniamo creduti, anche perché qualcuno specula sull'allerta per questioni di immagine. Andiamo a vedere l'incontro di ieri nel servizio di Tania Bonnici Castelli. Assemblea dei sindaci terramani, indetta dal presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino, sulle future strategie di messa in sicurezza della captazione delle acque del Gran Sasso. Presenti le principali istituzioni coinvolte come l'Acquedotto del Ruzzo, l'Asl di Teramo e in rappresentanza della regione Abruzzo il vicepresidente Giovanni Lolli. Il primo importante messaggio è stato quello che tutti hanno rivolto ai cittadini. L'acqua del rubinetto che bevono i terramani è assolutamente sicura, anzi migliore di quella in bottiglia. L'errata comunicazione di non potabilità da parte della dirigente dell'Asla di Teramo ha incrinato i rapporti di credibilità con l'opinione pubblica e recuperarli non sarà facile. L'Acquedotto del Ruzzo si sente partelesa? Ma lo è, parte l'ESA, perché poi in fin dei conti la nostra acqua, quella distribuita in rete e questo è consultabile dalle analisi che noi stiamo quotidianamente mettendo sul nostro sito per fare un'operazione di trasparenza, sono sempre state assolutamente potabili. Quindi è chiaro che l'allarme purtroppo ci ha generato un danno oggettivo. Cosa chiedete alle istituzioni? Noi chiediamo soprattutto quello che in realtà già stiamo condividendo e cioè di fare in modo che certi episodi non si debbano più ripetere e poi da ultimo di mettere definitivamente in sicurezza la captazione del Gran Sasso che per noi ha un'importanza fondamentale. Per noi, ma per i cittadini voglio dire, non solo per noi ruzzoreti alla fine. La provincia di Teramo si rivolge ai sindaci, loro rappresentano il territorio e che cosa dice? Questa è l'Assemblea dei Sindaci, la sede istituzionale più importante del territorio provinciale. Questa riunione serve uno a ricapitolare in una sede istituzionale lo stato dell'arte e quello che è successo. Due anche a cercare di capire cosa bisogna fare perché un bene prezioso come l'acqua sia erogato in condizioni di assoluta sicurezza. Il problema vero è ora come rendere compatibili tra di loro tre realtà fondamentali l'acqua del Gran Sasso, l'autostrada del Traforo e i laboratori di fisica nucleare. Serviranno opere di messa in sicurezza e nel frattempo si moltiplicano i controlli con nuovi e sofisticati strumenti di misurazione. Il problema è serio e va affrontato in un modo serio e cioè noi abbiamo tre cose importantissime. La prima ovviamente è l'acqua che ci beviamo, la seconda è un'autostrada che è un'arteria decisiva per il presente e per il futuro di interi territori e la terza è il laboratorio di ricerca più importante che c'è in Italia. Questi tre grandi patrimoni debbono convivere e però interferiscono tra loro e interferiscono tra loro in un modo non corretto. Allora chi buttiamo dalla torre? Nessuno. Il problema deve essere risolto in un modo radicale, cioè evitare ogni interferenza. La cosa è possibile, la stiamo studiando, la stanno studiando intanto i soggetti che sono coinvolti in questa vicenda con proprie risorse perché il laboratorio venga messo completamente al di fuori di ogni interferenza con l'acqua e anche l'autostrada. La presenza a Teramo del vicepresidente Giovanni Lolli è stata anche l'occasione per una manifestazione di protesta sotto la sede della provincia da parte delle lavoratrici di alcune cooperative di servizi per le pulizie scolastiche che rivendicano maggiore stabilità per i loro contratti di lavoro. La crisi al comune di Teramo, Brucchi verso la Giunta 6 con un Mister X, accelerazione incontri per trovare la quadra prima del Consiglio a rischio l'assessorato di Canzio. Andiamo avanti, corso, se va avanti così si finisce ad ottobre, in due mesi completato nemmeno un terzo della pavimentazione ed Alberto chiede di aggiornare il programma. Ancora, Popolare di Bari, Vara e il Fondo per i Soci in Crisi, il gruppo Terca Secari per le Associazioni dei Consumatori, sottoscrivono un patto per salvaguardare gli azionisti. Continuiamo con la lettura della città. L'anniversario, la bandiera di pannella sventola al Teatro Romano a Teramo, la commemorazione del primo anniversario della scomparsa del Teramano illustre, leader dei radicali. Ancora, andiamo avanti con il giornale. Andiamo a vedere una notizia che arriva da Roseto degli Abruzzi. Sindaco Sereno per l'ispezione in municipio, non riguarda la mia gestione, a disposizione dei funzionari, una stanza, il segretario e un dirigente. Questo per quanto riguarda l'ispezione che sta vivendo in queste ore, in queste ore, il comune di Roseto. Manutenzioni entro il prossimo mese verranno riaperti i sottopassi di via Canale Doria e via Taluero, queste altre notizie di servizio. Apriamo la pagina dello sport ora. Andiamo a vedere l'apertura dell'Abruzzo Sport del messaggero Coulibaly e Juve, chiavi mercato. Il Pescara ha intavolato una complessa trattativa con paratici, che sarà articolata in estate con scambi di diversi giocatori. Si parla di Andrea Gans, 23 anni, attualmente al Verona, ma il senegalese potrebbe restare ancora un anno in prestito. Andiamo a vedere il servizio a questo proposito, proprio sul Pescara. Il momento che la regia prepara il servizio, che parla anche e soprattutto del mercato per la prossima stagione. Vediamo se è pronto. E' una delle pochissime note liete di questa disgraziata stagione del Pescara. Dopo il debutto in Biancazzurro nella massima serie, Mamadou Coulibaly è diventato in pochissimo tempo il pezzo pregiato del mercato in uscita dei Biancazzurri, il giocatore intorno al quale ruotano anche alcune delle strategie in entrata. L'interesse della Juventus è forte, come dimostra l'incontro romano avuto due giorni fa, a poche ore dalla finale di Coppa Italia, dal DS Paratici, con la delegazione del Delfino, composta dal presidente Sebastiani, il DS Leone e il club manager Pepe. Per Coulibaly, che in caso di cessione resterà comunque il rival adriatico in prestito nella prossima stagione in Serie B, il Pescara vorrebbe contropartite tecniche da consegnare a Zeman. In cima alla lista ci sono due prospetti, il centravanti Favilli e l'esterno Orsolini. Il primo finirà alla Juventus dopo che Lascoli lo avrà riscattato da Livorno, il secondo è già del club torinese. Averli entrambi sarà estremamente difficile perché sono richiestissimi e potrebbero essere girati in società di Serie A. Valutazioni che dovrà fare la Juventus. L'entourage del Delfino ha anche il piano B. In caso di mancato arrivo di Favilli, il nome buono è quello di Simone Andrea Gans. Il filo d'arte è attaccante, moderno e completo, con grande fiuto del gol. Quest'anno è stato limitato a Verona dalla presenza del re dei bomber, Pazzini, ma ha comunque siglato gol pesanti per la promozione degli scaligeri come quello dell'1-1 col Carpi alla penultima giornata. Il modulo Zemaniano e la centralità nel progetto tecnico del Bohem potrebbero decretarne la definitiva esplosione. Il Delfino peraltro ha seguito con attenzione il finale di campionato di Luca Vido, centravanti di proprietà del Milan e prossimo alla disputa dei play-off con la maglia del Cittadella. Sempre con la Juventus si è parlato anche di Mattia Vitale, giocatore che Luca Leone ha avuto a Lanciano nella scorsa stagione e che in questa è stato girato in prestito al Cesena. Di che entità sarà la portata della rivoluzione tecnica dipenderà dalla consistenza del mercato in uscita. Memusciai, Biraghi, Zampano, Brugman andranno via di fronte a delle offerte importanti. Intanto ieri pomeriggio il Pescara ha disputato a Pescina l'amichevole contro l'unico Sano Fondi, squadra di Lega Pro, vittoria 4-1 per i Biancazzurri con le reti di Muric, Caprari, Campagnaro e Gilardino. Sempre ieri la corte sportiva d'appello ha rispinto il ricorso del Pescara per Benarì, confermate le tre giornate di scolipica. E dunque, campionato finito. Il messaggero riporta anche delle dichiarazioni del patron del Pescara, Sebastiani. Sono responsabile, ci vuole un bagno di umiltà, battuti tutti i record negativi. Non c'è scusa che tenga, ha detto il presidente Daniele Sebastiani. Facciamo un bel bagno di umiltà e ripartiamo per cercare di riprenderci quello che abbiamo lasciato quest'anno. Parliamo ancora di Pescara, ma cambiamo argomento e passiamo a un'altra sfaccettatura che riguarda la prossima partita dei Biancazzurri, che non conterà per il campionato. Come sappiamo, lunedì Pescara-Parelmo parla il patron rosa-nero. Il rimpianto di Zamparini, Zeman mi ha detto no. Il dirigente, l'anno scorso, ho proposto al Boemo la carica di direttore tecnico. Ha rifiutato, spiegandomi di vorrei restare ancora in panchina. Lui vecchio, no, però alla sua età potrebbe affiancarle un allenatore giovane e insegnargli tanto. La penso come Sebastiani, in a con questa divisione delle risorse è impossibile competere. Il Crotone mi ha sorpreso, credevo che fosse più scarso di noi e del Pescara. Così Zamparini. Andiamo a vedere anche le notizie che riguardano il Teramo, che si prepara al play-out. Ugolotti carica i suoi, prendiamoci la salvezza. Domani Biancorossi in trasferta a Lumezzane per il primo spareggio retrocessione. L'allenatore del Diavolo tiene alta la concentrazione, una gara da vita o morte. Andiamo a vedere il titolo sul Teramo, anche da parte del messaggero. Ugolotti in ballo c'è il futuro del Teramo, quindi il Lumezzane ha i play-out, qui c'è un refuso del giornale. Ci giochiamo tutto e tutti, evitare sottovalutazioni. Andiamo a vedere anche il titolo della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Ovviamente l'apertura della pagina sport è dedicata alla squadra biancorossa. Teramo arrabbiato alla ricerca della salvezza. Biancorossi senza l'infortunato Petrella, domenica giocano la prima gara per la permanenza in Lega Pro. Giocare senza fare calcoli, il tecnico del Diavolo, Ugolotti, sulla falsariga del resto della squadra, non vuole speculare sul vantaggio del ritorno casalingo. Faremo la nostra gara a Lumezzane senza pensare ai 180 minuti. Petrella non parte come nelle previsioni. L'esterno soffre ancora per un problema al quadricipide. Poi modulo rodato, Ugolotti si affida al 4-4-2 delle ultime giornate. Torna Spighi a destra, Barbuti e Sansovini saranno il duo di attacco. Andiamo avanti con la lettura delle pagine sportive. Torniamo sul quotidiano Il Centro. Andiamo a vedere le altre notizie per il calcio. I play-off dei direttanti. Il Francavilla in campo a caccia della Serie D. Torrese e Luco a voi. E poi il basket di Serie A2. Gli spareggi degli abruzzesi. Bologna troppo forte. Roseto KO. La Virtus vince gara 3 dei quarti. Tensione al Palamaggetti. Match sospeso per il lancio di una bottiglia. La partita è finita 83-91 per la Virtus Bologna. Andiamo nel taglio basso. L'amatori allunga la serie. Serie B. Montegranaro KO al Pallelettra. Domani gara 4 a Pescara. Partita finita 81-75 per l'amatori. Campli ad un passo dalla finale. Barcellona battuto al supplementare. Serve l'ultimo sforzo. Campli 81-Barcellona 77. Per la Proger serve un miracolo. Le furie perdono a Forlino. 91-75 sono un passo dalla B. Difesa con la Brodo. Domani bisogna vincere per riaprire i giochi. Andiamo a vedere anche il calcio a 5. Le semifinali Scudetto. Scimanghigno Show. Pescara vince gara 1. Tonfo invece dell'Acqua e Sapone. Blitz dei Biancazzurri a Napoli. 6-3 con tripletta del brasiliano. I Nerazzurri si inchinano alla Luparense. Mercoledì si replica. Noi ci fermiamo per quanto riguarda la rassegna stampa. Mattino 6 tornerà lunedì alle ore 7. Invece la nostra informazione con il TG6 alle 14, alle 19 e alle 23 di oggi. Grazie per essere stati con noi. Vi auguro una buona giornata e un buon fine settimana. Grazie per la visione. Grazie per la visione.